scioglia a scioglia non girare, non distraire, solo le mani si, frontale calcio alto calcio alto calcio alto Manuel c'è un bambino a solo, vai calcio alto gira, non girare sei alla fine, gira c'è un bambino a solo, lo vediamo massimo metti i pugni almeno, dai anticipa metti i pugni devi anticipare se aspetti troppo tempo lo sai che non fai combinazioni combinazioni destro gancio calcio combina massimo destro gancio calcio basso dai combina uno due tre bande provo provo non aspettare, non aver paura provo eh continua, non importa più deciso massimo più deciso più deciso vai destro gancio meglio provalo destro gancio nero dieci secondi dieci grazie grazie